Domenica decisiva per le sorti della Turris, i corallidi saranno impegnati nello scontro diretto contro la Viterbese con l'unico obiettivo di centrare matematicamente la salvezza diretta, conquistando i tre punti contro la compagine laziale che invece deve necessariamente fare risultato per scongiurare almeno per un altro turno la possibile retrocessione diretta e quindi disputare i play-out. La squadra allenata da Fontana è reduce dall'importantissimo successo esterno di Avellino, giunto nei minuti finali e che ha permesso quella lunga classifica necessaria per raggiungere il risultato finale sperato. La società inoltre si augura di riempire Liguria attuando la politica dei prezzi popolari per consentire ai più tifosi possibili di incitare e sostenere la squadra a compiere l'ultimo passo verso la salvezza. Il fischio d'inizio del match è previsto alle ore 17.30.